Beh, io do il via, allora. 6-1, prima. Fatto. Sì. Robin, grazie mille per la tua fiducia. Significa molto per me. Che carino. Sono qui per te, amico. Forza. Si parte, è tutto vero. Avanti, si gira. Ok. Azione, di azione. Azione. Più forte. Più forte? No, di azione più forte. Azione, ecco.